Sette quintali di marijuana nascosti in una villa abbandonata sul litorale di Torre Amare. Il carico di droga, arrivato sulla costa barese a bordo di un natante, è stato scoperto e sequestrato dai carabinieri della compagnia di Bari Centro in un blitz ieri notte. I militari, appostati nelle villette vicine, grazie a sofisticati visori notturni, con l'ausilio di un elicottero e della capitaneria di Porto, hanno arrestato Renato Colasuonno, pregiudicato di 64 anni. L'uomo è stato intercettato mentre effettuava lo scarico di grossi imballi incellofanati da un'imbarcazione, approdata poco prima sul litorale per poi trasportarli nella villa disabitata. Colasuonno, noto scafista, con precedenti per reati legati al traffico di stupefacenti, è stato condotto in carcere. La droga, una volta immessa sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe fruttato non meno di 5 milioni di euro. Secondo i carabinieri si tratta di uno dei più importanti sequestri di droga compiuti a Bari negli ultimi anni.